1. Come la passione che ci unisce. 2. Come i colori del nostro cuore. 3. Come le lettere della nostra società. 4. Come la misura del nostro pallone in questa stagione. 5. Come la misura del nostro pallone. La prossima stagione! 6. Come le lettere. Dello sport. Più bello del mondo. 7. Come i giorni in cui giocheremo a calcio. 8. Come i membri del nostro staff. 9. Come i giocatori in campo. In questa stagione. 11. Come i giocatori in campo. La prossima stagione! 13. Come i nostri anni. 10 più. 31. Come il numero di amici. Che fanno parte di questa squadra. Infinito come la voglia. Tornare in campo. Buona Pasqua! A tutti. A il gruppo. Day 2008. Come la squadra più bella del mondo.